Carl, Carl! Gli italiani non sono eleganti, ma si guardano la vicenda alla loro ineleganza e sono convinti di esserlo. L'eleganza è un optional. È inarrivabile, il bello stesso è inarrivabile. E' un'arama finisce il bello. Bello, 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 abbiamo trovato, lo fai tu? Io... Fammi una domanda. Che cose migliori escono sempre quando ti riverti? Se non è nulla, è eterno. Nessuno. Cioè che a volte non hanno in questa società... Nessuno. E c'è una bella differenza. Io penso di sì. Ma le cose succedono un po' fatalmente. Hanno un mood. È difficile il concetto, però dentro ce l'ho. Devo parlare linguaggi diversi. Cioè si devono dire poche parole. Chiedere scusa a volte. Cioè a bocca, a rana da bocca larga. Perché le parole sono importanti. Non vuoi che parlare umano. Non si va a parlare milanese così. Una forma d'arte piena di emozioni. Io credo che un momento musicale così entusiasmante non ci sia da tantissimi anni. Mentre invece i milanesi che parlano di cincino. Ho moltissime idee. Non ho mai esaurito le idee. Io faccio quello che voglio fare, come lo voglio fare. Beh sì, lo fare che vale, che si vuole come fare. Guarda te, con tutti i libri che ho a casa, io però giro per la chiavetta. Perché fa più figo, credo. È un tattico, insomma. Insomma, è una cosa geniale. È il segno esteriore di qualcosa di incompiuto. Che, hai capito? Quindi, ecco, in... Marlon Brando è stata per la porta. Sì. Prego. Eccoci qua. Tu dici ho sbagliato palazzo, scusi. Anche se facevo la morta per 40 minuti di sedia, la facevo male. E l'hanno presa sul serio. Hanno trovato qualcuno che le applaude. Non capivamo se c'era piaciuto o non c'era piaciuto. Guardi che non rile a nessuno. Credo che fosse la verità. Noi lavoravamo 12 ore al giorno. Io non potevo assolutamente reggere quella pressione. Un grande, un grande lavoro. Mai più. Scappo. Corre, corre. E quella sera ci fu un temporale improvviso. Un momento di grande delirio. Sì. Scappo. E scappare via e tornare ogni tanto. Patrimonio storico e artistico della nazione. Ma non sono così facilmente emozionabile per queste cose. La mia vita è da un altro punto di vista, vedi? Sono emozionata quando faccio una scoperta. Grazie. 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 Grazie.